Vola sull'arine il vento che porta le note, incontro di note Nella predica sulla libertà dal peccato e dal demonio, Don Gaspare assume toni particolarmente vibrati per convincere i suoi uditori della grave schiavitù in cui giace chi si lascia dominare dal peccato e dal demonio e della necessità di liberarsene attraverso la penitenza. Don Gaspare esorta gli uditori a mettere in atto un serio impegno della volontà per pentirsi del peccato e formulare adeguati proponimenti. Fratelli, basta solo un voglio che ciascuno di voi dica con tutta l'efficacia del cuore e voi siete liberi perché accorre in vostro aiuto la stessa onnipotenza di Dio. risolvete, determinate, proponete, già il glorioso trionfatore Cristo Gesù è risorto facendo che egli vinca il peccato e il demonio anche in ciascuno di voi. Dite con me nel vostro cuore Maledetto peccato, io ti detesto Maledetto demonio, io ti rinunzio Maledette catene, odiosi ceppi Vi voglio rompere per sempre E a voi, mio Gesù, mio Dio, mi arrendo Mi consegno, mi abbandono